Monitoraggio Per il monitoraggio, girare il selettore sulla posizione Monitor. Ciò che l'operatore visualizza sul display dipende dai tasti nell'area grigia. Premere Derive per passare da una derivazione all'altra e Dimens per cambiare dimensione alla forma d'onda ECG. Gli allarmi sono disattivati alla prima accensione. Premere il pulsante Interrompi allarme per attivarli. Per silenziare un allarme per 90 secondi, tenere premuto Interrompi allarme per un secondo. Per disattivare tutti gli allarmi per la durata dell'evento, tenere premuto Interrompi allarme per almeno 3 secondi, finché una X non compare in tutte le icone allarme. Premendo il pulsante Registratore, si avvia e si interrompe la stampa sulla striscia di carta. La stampa parte automaticamente quando si verifica un evento critico o viene erogata una scarica. Lo schermo del dispositivo R-Series può mostrare fino a tre tracce alla volta. Il tracciato della derivazione ECG selezionata è visualizzato in traccia 1. Per selezionare altre forme d'onda da visualizzare, premere Opzioni, Tracce, quindi Traccia 2 e o Traccia 3 e selezionare la forma d'onda.